Ehi, a presto, vai! Oh, ho fatto tutto! E' un'altra metta fin dietro! Uuuuuh! Quasi, vani, vani! Marco, Marco, Marco... Marco, Marco... Marco, Marco... Marco, Marco... Qual è il tuo genere? Il mio genere è poco dente, che ora mi sto... jetzt! A lo direttamente... E va beh, vorrei per cominciare! Ma io non posso e mi parlare! E' vero! E' vero! E' vero che vedi! E' vero che vada per cominciare! E' vero che... CONSIDOZIO l'alberto 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 luch Io ringrazio a tutti quanti Io ringrazio a tutti i miei figli